Debutterà il Mario Pupella che non ha bisogno di presentazioni con L'uomo dal fiore in bocca e la patente sarà seguito da uno spettacolo di cui il figlio di Mario Pupella, Marco, che non è un attore e non l'ha mai voluto fare ma con la regia e nella regia riesce a trovare chiavi di lettura che hanno stupito sempre tanti, ma è per primo che proporrà la famosissima Giara, ma tratto dall'eresia catara che è una favola, ha fatto lui la trasposizione teatrale quindi sarà una prima nazionale di fatto. Proseguo io, ahimè, vi sorbirete anche me nella Morsa e nel Cece da Roma poi verrà Giovanna Cappuccio con cui ho avuto il privilegio due anni fa di fare proprio a Roma il Così e se vi pare che proporrà questa trascrizione fatta da Giancarlo Moretti del figlio cambiato e per concludere ci raggiungerà il direttore dell'Accademia d'Arte Drammatica del Lazio che con alcuni attori usciti dalla sua accademia propone questo pirandello splay, è una cosa immaginaria, pirandello seduto nel suo salotto che riceve i personaggi delle sue opere grazie 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 grazie